Chiederanno scusa? Chiederanno scusa a tutti quelli che hanno sottovalutato questo problema? Perché adesso sento qua e là delle interviste un po' preoccupate, ma per mesi e mesi e mesi quando noi vi raccontavamo la situazione, denunciavamo quello che stava succedendo, tutti ricciavano il naso, razzisti, xenofobi, state esagerando, non è così. Proprio a Milano, il sindaco di Milano, Sala, diceva ma dai nel luglio 2021, non facciamo della sicurezza, una questione importante e qualche mese dopo di nuovo diceva ma no, ma la sicurezza non è un problema reale, è solo un problema percepito e ancora a novembre dell'anno scorso, quindi qualche mese fa, diceva ma no, ma la sicurezza non è un problema, è solo un caso politico mediatico, no, no caro sindaco Sala, no, hai sbagliato tutto, la sicurezza non è un problema inventato, percepito, non è un caso politico mediatico, no, no, la sicurezza è un problema reale, ti dico di più, che quel problema l'avete creato voi, con le voce e marce dell'accoglienza, le tavole dell'accoglienza, venite tutti, abbracciamo tutti, e porta aperte, buttiamo giù i muri e tutto qui, senza rendervi conto di quello che accadeva e per questo adesso vi dico, caro sindaco Sala, lei e a quelli che hanno sottovalutato come lei il problema, adesso chiederete scusa?